buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì 6 maggio benvenuti benvenuti a mattino insieme sarà un bel fine settimana dal punto di vista meteo a quanto pare così dicono gli esperti sarà anche caldo e sarà il secondo fine settimana con meno restrizioni dunque veramente raccomandiamo dei comportamenti responsabili come tutti giovedì mattina vi vogliamo far vedere vogliamo commentare vita trentina il settimanale diocesano abbiamo ospite eccolo qui il settimanale diocesano in edicola da questa mattina e abbiamo ospite in studio augusto goio giornalista di vita trentina buongiorno augusto buongiorno a te buongiorno ai telespettatori l'apertura che avete proposto proprio questa mattina è sull'e commerce con riferimento a quella novità anche che è stata annunciata proprio nei giorni scorsi dello sbarco di amazon in trentino sì abbiamo voluto dedicare il primo piano proprio a questo discorso con un'attenzione diciamo questo fenomeno che esploso durante la pandemia lo ricordiamo all'interno nel servizi che proponiamo alle pagine 4 e 5 un'esplosione proprio confermata anche dai dati riportiamo una serie di considerazioni anche numeriche credo interessanti e parzialmente inedite e soprattutto ci soffermiamo partendo proprio da questa notizia dell'arrivo del colosso del commercio elettronico amazon con un deposito più grande un centro di smistamento vero e proprio anche a trento e che si aggiunge agli altri che ha già presenti nel veneto e che appunto siamo andati grazie anche ai colleghi del settimanale di treviso e dei settimanali e l'azione di vittorio veneto ci siamo avvalci anche dei loro contributi proprio per proporre anche un focus un'attenzione su quello che è già successo altrove e proprio con un'attenzione anche poi a quelli che sono i diritti del mondo del lavoro lo vediamo come funziona il modello amazon direi che è una ricchezza questa che abbiamo come settimana diocesani di una rete che si può anche allargare sui territori vicini in questo caso il veneto chi perde chi guadagna il titolo proprio perché siamo tutti sicuramente clienti consumatori di questo di altri portali simili che propongono la merce in vendita online appunto durante la quarantena lockdown siamo stati in qualche modo anche costretti a ricorrere spesso a questo tipo di servizi e è un servizio che presenta sicuramente dei vantaggi e ha portato una ventata di novità ormai 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 una esperienza sicuramente consolidata quella dell'acquisto online anche anche in italia anche con la diffusione della della rete e della della fibra delle connessioni sempre più veloci è un fenomeno che però presenta anche dei lati oscuri comunque che vanno anche ben inquadrati in questo caso l'attenzione proprio quella del dei diritti soprattutto di chi non essendo dipendente direttamente di questi grandi multinazionali ma di chi lavora diciamo nel nel settore della logistica del trasporto e su questo soprattutto che focalizziamo l'attenzione sì certo perché il tema dei diritti è sicuramente centrale tra l'altro abbiamo festeggiato da pochi giorni il primo maggio la festa del lavoro e peraltro ne parlate anche nelle pagine interne e analizzando un po' anche quello che è stato il messaggio del vescovo lauro proprio in occasione di quella giornata lui ha celebrato a pergine se non sbaglio sì presentiamo anche le riflessioni dell'arcivescovo tisi in occasione del primo maggio e anche la proposta del movimento aclista che è diffuso anche sul nostro territorio trentino di un patto per il lavoro che bene si lega alla iniziativa della provincia di provincia autonoma di trento di avviare gli stati generali del lavoro proprio in vista anche di una possibile di una riflessione doverosa su come utilizzare anche i fondi che arriveranno all'interno del recovery plan questo piano next generation dell'unione europea che merita anche un'attenzione di pensiero e questa apertura degli stati generali va anche nella direzione crediamo di porre l'accento sulle possibilità che si aprono ma anche sulle attenzioni che devono essere dedicate proprio perché non ci sia uno scadere dei diritti che il lavoro sia di qualità per tutti come sottolineato anche da questo primo maggio torniamo alla prima pagina di vita trentina e andiamo al taglio alto dove si parla di Europa in particolare con varie iniziative e con varie riflessioni un disegno per l'Europa è appunto il titolo che abbiamo voluto dare ci riferiamo a un'iniziativa del nostro settimanale insieme all'associazione nazionale rosa bianca che riflette sulla figura di Sophie Scholl una ragazza tedesca che volle esprimere la sua contrarietà al nazismo e pagò con la vita per questo il 9 maggio ricorre il centenario della nascita era nata appunto nel 1921 e fu giustiziata nei pressi di Monaco nel 1943 il 22 febbraio appunto di quell'anno fu ghigliottinata assieme agli altri compagni al fratello Hans che volero esprimere la loro resistenza al nazismo una resistenza non violenta per questo probabilmente anche più significativa è un messaggio quello del gruppo della rosa bianca che è stato poi riscoperto e analizzato indagato in diversi scritti anche il giornalista Paolo Ghezzi ha dedicato dei libri a questa esperienza e noi proponiamo una graphic novel in linguaggio del fumetto proprio per avvicinare i giovani e l'illustratore Giorgio Romagnoni ha creato questa graphic novel dialogando con due ragazze ventenni che in qualche modo sono coetane di Sophie Una rosa bianca per l'Europa appunto è il titolo che abbiamo voluto dare vediamo appunto come è nata questa graphic novel lo raccontiamo nelle pagine e segnalerei anche l'appuntamento di oggi alle 17 sul canale YouTube e sul canale Facebook dell'associazione Rosa Bianca con una presentazione online di come è nata questa graphic novel mentre domani sempre su questi canali della Rosa Bianca ci sarà una presenza degli studenti del liceo linguistico Sophie Scholl il liceo linguistico di Trento che è dedicato appunto a questa coraggiosa ragazza e l'intervento anche del Presidente del Parlamento Europeo Davide Sassò e domani alle 17 e alle 18 rispettivamente Ma il rosario non è un banco Matt scrive il direttore di Vita Trentina nel suo editoriale di questa mattina che cos'è che ci vuole comunicare? ha fatto discutere la decisione, la scelta di Papa Francesco di avviare una sorta di maratona del rosario tra i santuari d'Italia in questo mese di maggio dedicato alla Madonna per pregare, per fermare la pandemia c'è chi ha voluto vedere in questo un ritorno a una sorta di devozionismo anacronistico come scrive il nostro direttore Diego Andreatta che invece in questo editoriale argomenta con puntualità le ragioni invece del ricorso alla priera che come lo stesso Papa Francesco ha più volte ricordato non è uno scadere in un devozionismo vuoto e fine a se stesso ma rappresenta invece una pratica ancora più che mai attuale e lascio poi ai lettori andare a vedere come Andreatta argomenta appunto questo ragionamento con il supporto anche di riferimenti anche alle scritture poco più sotto all'editoriale lo abbiamo proprio intravisto c'è invece l'articolo che riguarda gli scout scout anche in pandemia avete titolato continua anche in questo numero il viaggio che stiamo compiendo nelle realtà giovanili e associative oltre agli oratori così attivi ci sono anche i gruppi scout che anche nella pandemia hanno trovato nuove forme per tenersi in collegamento e quando appunto le condizioni di sicurezza lo hanno consentito hanno anche cominciato, hanno ripreso a svolgere quello che è il loro tradizionale servizio alla collettività servizio è una parola che chi è stato scout conosce molto bene è un dedicarsi agli altri anche con uno stile particolare che è quello scout in questo caso è il clan del Gardolo I che siamo andati a visitare e in particolare c'è una loro attività che ci ha colpito un termine inglese che si chiama plogging e che consiste nel correre, muoversi in città raccogliendo i rifiuti urbani è un'attività appunto che richiama lo jogging ma che in questo caso ha anche un risvolto sociale non trascurabile Parliamo anche del Museo Diocesano perché ci sono delle novità anche nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere nei nostri telegiornali quali sono queste novità ve ne occupate nelle pagine interne Sì, è un'attenzione al mondo della cultura che abbiamo voluto appunto sottolineare in questo caso il Museo Diocesano a Tridentino che anche durante i mesi del lockdown non si è mai fermato ha colto invece questa chiusura obbligata per rivedere alcuni spazi interni risistemarli in questo caso è stata in particolare valorizzata un sarcofago del Simonino il ragazzo appunto che come una molto seguita mostra dello stesso Museo Diocesano ha voluto sottolineare non ha avuto nulla a che fare con presunti sacrifici rituali ma ha costituito invece questa mostra un'occasione per riscoprire appunto questa figura e capire anche come le cosiddette fake news possono creare danni molto pesanti in questo caso addirittura la cacciata degli ebrei dalla città di Trento e questi spazi ora sono risistemati come vediamo nelle vostre immagini e il Museo appunto si ripropone in questo modo di rioffrire ai suoi visitatori tutta la ricchezza delle opere che custodisce con attenzione e cura come tutte le settimane c'è molta attenzione nelle pagine interne alla cronaca dalle valli questa settimana che cos'è che ci segnali Augusto? ma vorrei richiamare l'attenzione sulle nomine all'ospedale di Borgo l'ospedale San Lorenzo di Borgo Val Sugana ma questo anche come richiamo al piano della sanità trentina che è stato presentato proprio in questi giorni e che torna a dare attenzione proprio alle periferie in questo senso ci pare appunto doveroso dedicare attenzione anche a un ospedale come quello di Borgo che serve una comunità molto ampia e la sottolineatura che mi sento di dare è quella appunto che la sanità come ci ha invitato a riscoprire proprio la dolorosa pandemia i danni che ha provocato il coronavirus la sanità deve essere diffusa e di qualità su tutto il territorio si tratta evidentemente di contemperare e di dare il giusto equilibrio alla qualità che richiede evidentemente strumentazioni e una preparazione che richiede evidentemente anche in determinati casi un accentramento delle risposte delle soluzioni ma deve essere accompagnata anche da una diffusa attenzione al territorio quella medicina del territorio che è quella che probabilmente è mancata nella primissima fase della pandemia e che avrebbe forse potuto limitare i danni Augusto il tuo giudizio su questo piano che è stato presentato proprio nei giorni scorsi su questo piano per la sanità dei prossimi anni ma credo che la sanità sia come c'è appunto detto la pandemia è un settore importantissimo ci siamo accorti tardivamente anche se non erano mancate le voci che lamentavano i tagli costanti proprio al settore della sanità è un punto vedremo ora se anche col nuovo recovery plan verranno dedicate le doverose risorse a questa questa sanità anche la sanità trentina che sicuramente è di buona qualità l'importante credo sia che non vengano avanzate delle proposte secondo il vento anche della politica e che non siano proposte che mirano magari più a solleticare così l'attenzione degli elettori in questo senso l'attenzione al territorio sicuramente va bene purché non sia un'attenzione solo passeggera dovuta appunto magari a futuri calcoli elettorali grazie grazie infinite per la tua lettura Augusto dei fatti di queste ultime ore ringrazio Augusto Goio giornalista di Vita Trentina grazie a tutti